Musica Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quenti Channel Oggi sono qui con questo nuovo video, continuiamo le missioni su Watch Dogs 2 Intanto siamo stati hackerati, ragazzi qualche volta mi esce un gattino che caga merda Tutto pixelato, quindi siamo stati hackerati, vediamo un po' Ma certo, quella stronza di Lenny Cittadini del mondo, posso avere la vostra patetica attenzione Il Daniel Dostack È un gruppo di sfigati che vi spanna il mio speed Digno di essere i difensori del libero arbitrio Ma invece Sono solo dei Lamer Che vogliono essere famosi ad ogni costo Ma è il momento di finirla Io sto per dare una bella lezione al DedSec E DedSec, se credi che non lo faccia Che non sei in grado di distruggere il tuo sistema Beh, ok Permettimi di presentarmi come si deve Dimmi che è solo Kiki È solo Kiki Eliminiamo i gatti, Josh sta forzando la chiave criptografica Chiudi la bocca! Allora, che si fa? Dichieriamo guerra? Certo, quei troll non possono trascinarci nelle loro fogne Noi non facciamo marcia indietro E allora? A che serve scatenare una guerra? Non toglierà il blocco, non cambierà un bel niente Sono entrati! Affanculo! Ehi, ascoltate Non permetteremo al Primate di distrarci Dobbiamo essere più furbi Allora, il Primate vende espluasi rodei a chiunque abbia soldi? Sì, governi di merda Bloom, Noodle Persino i terroristi, cazzo I Suns of Ragnarok Cosa? Certo, i Suns of Ragnarok Lavorano pure per i Suns of Ragnarok, no? Scopriamo tutto quello che possiamo su quella gente E le loro operazioni Non facciamo marcia indietro davanti a nessuno Ehi, Josh, che ti prende? Ora è guerra Spostati Manderò i messaggi sui back channel Avranno dei nemici disposti a darci informazioni Mettiamoglielo nel culo a ste merde Perfetto, ragazzi Ora è guerra Allora, vediamo un po' Lenny mi sta sul cazzo, eh Allora, andiamoci subito, dai Tra l'altro c'è una chiave là, disegnata sulla minimappa Non so che mi identifica Va bene Intanto, ragazzi Sta piovendo qui a San Francisco Vediamo un po' Ok, nuova operazione disponibile Va bene Poi la facciamo Queste operazioni Dovrebbe essere un'operazione secondaria Oppure un'altra primaria Non lo so Intanto andiamo da Sta tipa qua Che rompe il cazzo Dove cazzo si entra? Qua Ok Ok, fighissimo qua dentro Ci facciamo prima una birra E poi siamo subito da lei, eh Due secondi E qua la birra ci sta tutta Durante l'operazione di hacking La birra ci sta Meglio dire Meglio dire un sorso di birra Però va bene lo stesso Andiamo va Parliamo con sto tipo Ehi, da paura Mi piace Sei pronta per il chip? Aspetta Sto pregustando Ah, ma guarda sto stronzo Sentiamo un po' Quanti cagnolini stanno lavorando dietro le quinte per aprire il mio indistruttibile lucchetto Ah, Cesare è quel che è di Cesare Ora, che faccio? Te lo chiedo gentilmente? Potresti darmi la chiave e come sono venuto me ne vado? Cosa? È un ransomware brutto coglione E che cosa vuoi in cambio? Ah, dovete solo fare uno dei vostri stupidi video del cazzo Oh wow Non credevo che fossi una follower Ah, volete che i ragazzini vi sbavino dietro? Ma io non ci sto Cazzo! Quello che voglio È uno streaming pubblico che dica Il DedSec non vale due secondi Meno che mai quindici minuti dell'attenzione pubblica Fatelo bello Con molte lacrime Tutto qui? Certo Per ora Ma se non lo fate Io inizio a tirar fuori I nomi Esatto Nomi Identità Disputano uno per uno Stronzo Merda Quanto pare non ci lasci molta scelta Sai che c'è Peggio per voi E adesso Gira i tacchi E corri subito a girare il video Che ti ho chiesto Comunque è un sistema idiota Allora ragazzi Non avete capito Quanto mi sta sui coglioni Quella C'è veramente impressionante Ragazzi Di se l'ammazza quella Vuole che diffondiamo un video diffamante su di noi Non ho alcuna intenzione di farlo Le manderemo un messaggio chiaro Getteremo merda su di lei invece Il Ragnarok paga il primate per caricare malware nei bancomat E che bancomat sia gente Gli estiscono tutto dal copo del loro club La Ronda Steiner Mando Goli a ispezionare il posto Va da lui quando arrivi laggiù Ok Andiamoci va Comunque Quella tipa mi sta sui coglioni Veramente E' stata pagata Da quel tipo la Che non ricordo come si chiama Per Metterci contro di noi però Siamo il dead sack ragazzi Nessuno si mette contro il dead sack Attenzione qua Allora dov'è che dobbiamo andare Così mettiamo La Ok A millemila chilometri Ok Siamo arrivati più che altro Grande Allora Vediamo un po' Che cazzo è ecco E' Orazio Ciao Orazio come va? Ehi Guli Come va Retro? I Ragnarok hanno assoldato il primate per dei bancomat eh? Il Ragnarok clonava già le carte di credito ogni tanto Ma niente di grosso Assoldare il P8 per mettere malware nei bancomat Ha triplicato le entrate Ci scommetto Il codice copia i dati e li invia al P8 Né l'utente né la banca hanno modo di accorgersene Ah ma noi si Si noi si Non ci vuole molto a modificare il codice Immagina come si incazzeranno i sonso Fragnarok con Lenny e il primate Se crollano di colpo le loro entrate Quella è l'idea Ma sarà pericoloso Meglio che vai Guli Bene amico Auguri E' ora di rovinare questa troffa Ok non è Orazio E Guli Allora mo dobbiamo entrare in questo posto eh Ok perfetto Eeeh Merda Allora Bene ecco i bancomat Distruggi i bancomat Allora Ma siamo questi Come preferisci eh Beh io avrei un'idea Ok siamo nella zona privata Scusa Eh ragazzi c'è una musica qua Non vorrei che Me la segnalassero per copyright Scusa Infatti cazzi tua Ma non dovrei entrare nel bar però eh Dovrei uscire dal bar Merda Ecco Mi hanno sgamato Ok ammazziamolo E vabbè Mi hanno sgamato ragazzi E fanculo lo stealth Fanculo lo stealth proprio Vai ci vuole un po' d'azione Sempre Sempre Cazzo Sti cani di merda però Rompini i coglioni Ok Vai un po' di Casino totale Ci vuole il fucile qua eh O meno uno Attenzione ce n'è uno qua Che cazzo succede? Qua possiamo aggirare? Merda 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 Vaffanculo va Merda Quanti cazzo sono Merda ragazzi Siamo nella merda Muori Aia Aia Son morto Son morto Son morto Son morto Son morto Bombe Tanta roba Tanta roba Tanta roba Attenzione Cazzo 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 R2 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 come cazzo Merda Vabbè Scendiamo due secondi Vai Tanto Non è necessario Andiamo verso l'altro banco Matt Di solito Cioè di regola Dovrei fare tutto stealth Qua Comunque bel posto Bel posto Allora Dov'è l'altro banco Matt E' qua Vai Perfetto Credono che internet Sia la vita reale Ma ora è andato tutto a puttane Grazie al cuore Tenero Sec Sapete una cosa Abbiamo usato lo stesso Gesso Amici Sappiamo che la vostra Merda puzza Come la nostra Quindi ora sono la Ex ubriaca E macchina Che vorrete far passare Per pazza E va bene Ci sto Mi siete fatti I pompini a vicenda Per un bel pezzo Ma adesso basta Avranno recepito? Posso quasi sentire Le mignaie di persone Derubate Che gridano Di felicità Per Lenny Non sarà facile Spiegare tutto questo In sansa Cosa? E ora che qualcuno Incerriva Questa ancora sta parlando E noi l'abbiamo fottuti Abbandona il ritrovo Dai biker Ok Quella Quella stronza Ha finito di parlare Ha rotto il cazzo Ragazzi In una maniera Incredibile proprio Ok Lasciamo sta zona E andiamo Ce n'è Quella m'ha visto Fatti cazzi tua Oh Ok Siamo in fuga Vai Scappiamo da questa zona Ragazzi Prima che i bikers Ci ritrovino Andiamocene Ok Prendiamo quella moto Va Scusa Che sta a fare La scampagnata La gara Che dovete fare Adesso vengo Ok Perfetto ragazzi Missione Completata Intanto chiamano La polizia Qua Attenzione Siamo qua Nel bosco Attenzione Guardate che figata Qua Ma Dove siamo Ok Adesso sono curioso Se arrivo Da questo lato Ah ok Esco dalla baia Perfetto Ok Ok è rimasta Fottutissima Proprio Voleva Fotterci Voleva Allora Prima di salutarci Ragazzi Vabbè parliamo Non importa Ormai è finita Sappiamo dove recuperare La chiave di decretazione Ho saputo che il Primeita Ha un bunker Un bunker Ma non sappiamo dove Lenny ha un RFID impiantato Si può trovare il bunker così? Sì È possibile Bene Ora si va da Lenny Basta perdere tempo Branch Vieni con me Sì amico Grandissimo E anche qui c'è un bunker Ragazzi Mi ricorda Watch Dogs 1 Perfetto Vediamo un po' dov'è che dobbiamo andare Nella prossima missione Qua Perfetto E intanto ragazzi Voglio farvi vedere una cosa Voglio Scattare una bella foto Qua Guardate che figata Ragazzi Grande Così Vai scattiamo una bella foto Qua al bosco E anche Qua Veramente molto molto figo Ragazzi eh Con il drone Vi potete incasinare Come volete Va bene Allora io direi che ci possiamo vedere Con il prossimo video Ed essendo andremo da Lenny Fatemi sapere la vostra Commentate Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Passate dalla mia pagina Facebook E niente ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti